Presentiamo un nuovo appuntamento del sabato, è uno spettacolo a San Giovanni Valdarno e in particolare siamo giunti alla fine di ottobre, questo è il quarto appuntamento e si parla del gioco infinito, è anche un momento di fare il bilancio del primo mese. Siamo molto contenti di come sono andati i sabati precedenti, dalle bianche presenze, quindi queste bellissime farfalle luminose sui trampoli, l'arrivo di guerre stellari alla scuola di discipline aeree. Sabato 28 saremo in compagnia di sabato prossimo insieme alla compagnia Circenze Zircus che porterà trampolieri, giocolieri, bolle di sapone, quindi un sabato pomeriggio ancora una volta molto ricco per le famiglie, per i più grandi e poi anche per i più piccoli, per passare insieme un divertente e piacevole sabato pomeriggio a San Giovanni Valdarno. Sabato oltre al gioco si può parlare anche di caffè e ci saranno degli stand dove si potranno gustare le principali miscele e il pubblico potrà deliziarsi. Sì, sicuramente noi saremo presenti innanzitutto per contribuire alla riuscita di questi sabati che fino ad oggi sono stati abbastanza condivisi anche dal pubblico del territorio di Valdarno. Noi saremo lì con la nostra nuova idea che è quella di aver realizzato con le nostre miscele di caffè dei formati compatibili con macchine largamente diffuse in ogni famiglia così chi si avvicinerà al nostro stand avrà la possibilità di provare una miscella da noi realizzata che è compatibile direttamente con una macchina che magari c'ha già a casa e quindi conoscere sicuramente un prodotto del Valdarno fatto da noi.